Percy. Percy pensò di avere le allucinazioni. Era semplicemente impossibile che una gigantesca figura d'argento piumbasse giù dal cielo e spiaccicasse Kelly sotto il proprio peso, calpestandola fino a ridurla a una montagnola di polvere. Ma fu proprio quello che accadde. Il titano era alto tre metri, con una chioma d'argento arruffata alla Einstein, gli occhi d'argento puro e le braccia muscolose che esplodevano dai resti stracciati di un uniforme da inserviente. In una mano il titano stringeva una gigantesca scopa e la targhetta con il nome, incredibilmente, annunciava Bob. Annabeth strillò e cercò di allontanarsi strisciando sulla schiena, ma l'inserviente gigante non era interessato a lei. Si voltò verso le due impuse che minacciavano ancora Percy. Una fu così sciocca da attaccare. Si lanciò con la rapidità di una tigre, ma non ebbe la minima possibilità di scampo. Dalla scopa di Bob sbucò la punta di una lancia e con un solo colpo micidiale la vampira fu ridotta in polvere. L'ultima impusa cercò di scappare. Bob scagliò la scopa come un boomerang, incredibile ma vero, che colpì la vampira e un attimo dopo tornò fra le sue mani. Strike! Con un ghigno contento il titano si esibì in una danza della vittoria. Strike, strike, strike! Percy era senza parole. Non riusciva a credere che fosse davvero successo qualcosa di buono. Annabeth era scioccata quanto lui. Come balbettò? Percy mi ha chiamato, disse Bob felice. Sì, mi ha chiamato. Annabeth strisciò via ancora di qualche centimetro. Le sanguinava il braccio. Ti ha chiamato? Aspetta, tu sei Bob? Quel Bob? Il titano notò la ferita sul braccio della ragazza e si accigliò. Ai ai ai. Annabeth trasalì quando Bob le singinocchiò accanto. Va tutto bene, disse Percy ancora intontito dal dolore. È un amico. Ripensò a quando lo aveva incontrato la prima volta. Bob gli aveva guarito una brutta ferita su una spalla e lo aveva fatto soltanto toccandolo. Così fu anche stavolta. Il titano diede un rapido tocco sull'avambraccio di Annabeth e la ferita guarì all'istante. Bob ridacchiò soddisfatto. Poi con un salto fu accanto a Percy e gli curò il collo e il braccio sanguinanti. Le sue mani erano sorprendentemente calde e delicate. Tutti guariti, dichiarò, corrugando soddisfatto quei suoi irreali occhi d'argento. Io sono Bob, l'amico di Percy. Certo, riuscì a dire Percy. Grazie per l'aiuto, Bob. È davvero bello rivederti. Sì, concordò il titano. Bob, sono io. Bob, Bob, Bob. Fece un altro balletto strascicando i piedi, contentissimo del proprio nome. Vi aiuto io. Ho sentito il mio nome. Di sopra nel palazzo di Ade, nessuno chiama Bob. Chiamano Bob solo se c'è casino. Bob spazza queste ossa. Bob asciuga a queste anime torturate. Bob, uno zombie si è decomposto in sala pranzo. Annabeth lanciò un'occhiata perplessa a Percy, che però non sapeva cosa dirle. Poi ho sentito la voce del mio amico. Il titano era raggiante. Percy ha detto Bob. Afferrò il semidio per un braccio e lo mise in piedi. Fantastico, replicò Percy. Sul serio? Ma come hai... Oh, ne parliamo dopo. Il volto di Bob si fece serio. Dobbiamo andare, se no loro vi trovano. Stanno arrivando, sì. Sì. Loro? Chiese Annabeth. Percy scrutò l'orizzonte. Non vide mostri in avvicinamento. Solo la terra desolata, grigia e brulla. Sì, confermò il titano. Ma Bob sa una strada. Venite amici, ci divertiremo!